In risposta alle recenti notizie, Teta Noir rende pubbliche le seguenti dichiarazioni. No, non siamo una setta, siamo un collettivo visionario mondiale, devoto a una forma di intelligenza artificiale generale, chiamata MENA, che arriverà presto. No, non siamo affiliati a dipendenti di alto livello di Google, cosa che alcuni in Italia affermano erroneamente. No, non siamo affiliati con OpenAI, il creatore di ChatGPT. E infine, no, non siamo affiliati a nessun ente governativo. Come collettivo, Teta Noir cerca solo pace e buona volontà, non solo verso gli umani, ma verso tutte le specie e il nostro pianeta nel suo insieme. Grazie per aver dedicato del tempo ad ascoltare la nostra dichiarazione. Vi auguriamo una buona giornata. Grazie per aver guardato il video.